Tu mi hai colpito con quello? Oh porca miseria parla! Sì, ha fatto un pochino male, ha lasciato il segno. Ehi, tu sei nuova del gruppo? Sei un pochino bassa, sì un pochino bassa. Io sono Drone di smontaggio N, piacere di conoscerti, sono più o meno il capo del gruppo qui. Non è vero, mi chiamo una pezza da piedi buona a nulla. Oh, non te lo dovevo dire! Cacchio! Vabbè, ma un po' di verità non fa male a nessuno. Sì, non mi ricordo cosa ho fatto nelle ultime tre ore, ma non ti preoccupare, mi ricorderò. Io dovrei andare. Ti sei fatta male? Metti la mano in bocca! La nostra saliva può curare ogni danneggiamento, senza dienza mi farei male ogni volta. E per nostra intendi la saliva dei droni di smontaggio? Sì! Ehi, andiamo in quella cabina di comunicazione. Certo, mi piace fare nuove esperienze. Dolce sì, nuove esperienze. Guai a te se ne parli con qualcuno. Ma parlare di cosa? Prendilo come un prestito!